E diamo il benvenuto a Fran Nazario Vasciarelli. Oggi siamo qui per parlare della figura meravigliosa di Fran Modestino. Benvenuto Fran Nazario. Faccio bene a tutti, faccio bene a voi, bentrovati. Allora Fran Nazario, noi vogliamo chiederti, nel cammino di preparazione alla festa di Padre Pio incontriamo come amico e compagno di viaggio Fran Modestino Fucci, carissimo Fran Modestino Fucci, l'abbiamo conosciuto in tanti, uno dei discepoli e figli spirituali più amati di San Pio. Fran Modestino sulla scia di Padre Pio ha fatto della preghiera uno dei perni della sua spiritualità. Stiamo vivendo l'anno della preghiera, con gli occhi puntati sul giubileo. Al Signore veniva chiesto insegnaci a pregare. In questo, Fran Modestino, come può esserci d'aiuto? Possiamo dire subito che Fran Modestino ha avuto due maestri. Il primo, il maestro, con la M maiuscola, nostro signore, e poi il Padre Pio. E quindi come modello, paesano, amico, consigliere, Padre Pio è stato per Fran Modestino un po' tutto questo. E l'esempio di Padre Pio ha trascinato Fran Modestino, il quale già aveva una predisposizione dei doni particolari per la preghiera. Il fatto stesso che avrebbe voluto entrare in una comunità di contemplativi già l'aveva ben predisposto. Poi l'ambiente di Pietrelcina, soprattutto di Piana Romana, aveva fatto sì che Fran Modestino avesse questa predisposizione alla preghiera. Era un contemplativo operativo. Ecco, questo sì, sicuro. Quindi anche la terra di Pietrelcina ha fatto? Ha fatto perché, ma io dico sempre così come per Padre Pio, non tanto la città, ma la campagna, il dintorno della città di Pietrelcina, cioè Piana Romana, il luogo dove Padre Pio ha ricevuto i segni delle stimate. E Fran Modestino abitava a poche centinaia di metri dal luogo della campagna dei Forgione. Quindi ha modellato la sua vita anche nel contesto della campagna. C'è molto legame tra la campagna di Pietrelcina e la campagna di Assisi, per dire. E il legame tra Fran Modestino e la Madonna della Libera anche era forte? Molto forte, molto forte. Non c'è Pucinaro, non c'è Pietrelcinese che non abbia questo legame filiale con la Madonna della Libera. E Fran Modestino, così come Padre Pio, no? Ci sono tante assonanze tra... Era lì che ti volevo. Certo, tu togli la Madonna della Libera a Padre Pio e lo abbiamo già dimezzato. Togli la Madonna della Libera a Fran Modestino e non è Fran Modestino e il legame alla preghiera, la recita del rosario, uno dei cardini anche della sua spiritualità. Riflettevo, Fran Nazario, ormai è diventata una tradizione, una consuetudine quasi, il fatto che uno dei, chiamiamoli apripista della novena in preparazione alla festa di Padre Pio, quindi alla festa del nostro santo, sia proprio la figura di Fran Modestino, il portinaio, dunque la porta che apre l'accesso alla santità. Mi veniva in mente questa metafora che secondo me, ecco, disegna bene la spiritualità di Fran Modestino che ha fatto, come giustamente detto tu, del rosario uno dei suoi punti di forza, sicuramente, una delle preghiere più amate. Secondo te oggi, partendo anche dal fatto che oggi ricordiamo la Madonna addolorata, dunque uno dei titoli più belli e venerati, se vogliamo, della Madonna, cosa ci può dire questa preghiera, nell'anno della preghiera, in preparazione poi anche al Giubileo, perché poi ti faremo una domanda legata anche alla speranza, che è il tema importante ovviamente del Giubileo, che tra cento giorni si aprirà. Mamma mia, siamo già arrivati. Guarda, sai molto bene che il 14 di settembre, Esaltazione della Croce, di quattro anni fa, iniziò il processo di beatificazione e canonizzazione di Fran Modestino, con la celebrazione presieduta dal nostro Vescovo, Monsignor Moscone. E quindi, legato a questi giorni, c'è proprio la persona di Modestino. E uno dei titoli che esaltò Monsignor Moscone durante l'Omelia di quattro anni fa fu proprio il titolo di Portinaio. Portinaio apri porta, apri porta non nel senso più volgare potremmo dire, ma apri porta del cielo, colui che ha aperto a tanti misteri, che ha aperto il cuore di Dio. Il rosario, la preghiera, il modo di pregare di Fran Modestino ha fatto sì che tante grazie arrivassero su San Giovanni Rotondo e soprattutto su chi veniva a San Giovanni Rotondo, quante persone. Io in questi anni ho conosciuto diverse realtà di persone che si sono riferite a Modestino in momenti veramente di sofferenza e Fran Modestino aveva il crocifisso delle stimmate di Padre Pio come luogo dove andare, bussare al cuore di Dio per ottenere delle grazie. Andava a tingere la fonte un po'. Andava sì sì alla sicurezza, sicuro di non essere deluso e aveva tra virgolette potremmo dire anche un modo persuasivo di rivolgersi al nostro Signore. Sbrigati, falla questa grazia, se no questi vengono da me e io devo venire sempre da te. Da buon Beneventano insomma. Sì sì sì, con la semplicità dei frati qui oltre che Portinaio è stato questuante, questuante delle grazie non solo dei beni materiali, oggi io tratterò un attimino la presenza di Modestino soprattutto a Sanderia perché c'è un evento oggi che vengono dei pellegrini a cavallo da Sanderia Pianisi, un luogo dove, eccolo qua, dove Modestino è stato e Fra Modestino è passato dalla questua delle cose materiali alla questua delle grazie dal cuore grande di Gesù. Lo ricordiamo in Portineria e un ricordo bellissimo, a parte la folla di gente che veniva a cercare Fra Modestino, la notte ci chiedevano in albergo le coperte perché dovevano fare la fila per parlare con lui e stavano lì tutta la notte senza paura. Era incredibile. Guarda Giulia, ti devo dire, quando io sono venuto e l'obbedienza mi inviò qui a San Giovanni Rotondo come guardiano, una delle prime cose che ho fatto era far sì che arrivassero ai pellegrini che avrebbero aspettato durante la notte procurare delle coperte. proprio perché a San Giovanni Rotondo fa freddo, quindi stiamo vedendo già tra ieri e oggi, l'altro ieri ho sentito qualcuno e il freddo si sente, si sente e quindi c'era bisogno e quindi c'era bisogno che questa gente si coprisse. Allora, noi leggiamo da una catechesi all'udienza, la preghiera è la prima forza della speranza, tu preghi e la speranza cresce, va avanti. Io direi che la preghiera apre la porta alla speranza, la speranza c'è ma con la mia preghiera apro la porta. Cosa ci insegna Fra Modestino sulla speranza? tema centrale del prossimo giubileo, Pellegrini di speranza, partendo proprio dal suo essere frate di preghiera. Frate di preghiera aperto alla speranza, Fra Modestino è stato tutto questo, sicuramente. Tra le domande che si fanno che il Tribunale fa quando sono stati scelti come testimoni, ci sono proprio le virtù, la fede, la speranza e la carità. E certamente, a mio modesto avviso, Fra Modestino aveva i piedi a terra e la mente al cielo. Io ricordo, anche nella mia recente esperienza di guardiano della Fraternità di Isernia, che nella cronistoria di Isernia, padre Candido da Casa Calenda, che era nella Fraternità di Isernia, nell'anno 1969, quando Fra Modestino fu trasferito da Isernia a San Giovanni Rotondo, parlava proprio di questo, che Fra Modestino, uomo della carità, aveva i piedi poggiati a terra, ma lo sguardo alzato verso il cielo. Cioè, c'era questo legame, mai è sfuggito nulla a Modestino, attento, caritatevole, ma con lo sguardo verso il cielo, laborioso, Modestino. Così, tra gli oggetti che conserviamo, che appartenevano alla portineria di San Giovanni Rotondo, ci sono tanti oggetti che dicevano anche la capacità, tra virgolette, imprenditoriale, le invenzioni di Fra Modestino, un aspetto che pochi conoscono. Nel tempo, poco tempo libero, Fra Modestino inventava, inventava degli oggetti, e quindi i piedi poggiati a terra, però mai lasciava la sua corona, mai lasciava la sua corona e quindi l'apertura al cielo, la partecipazione all'Eucarestia, quante cassette, allora cassette per registrare, tante cose le ha registrate anche del cammino spirituale, della fraternità di San Giovanni Rotondo, della comunità di San Giovanni Rotondo, di vari eventi. Adesso c'è Padre Pio TV, all'epoca non c'era Padre Pio TV, però Modestino, come sapeva fare lui, metteva le cassette per poi riascoltare anche quelle catechesi, quelle omelie che venivano vissute qui a San Giovanni Rotondo. Bene, Fra Nazario, allora noi ti ritroveremo alle 11.30 a celebrare l'Eucarestia nella chiesa di San Pio, come abbiamo detto una bella tradizione, aprire la novena con la figura di Fra Modestino, ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io nel frattempo, Leo, andrò, dopo aver celebrato qui a San Giovanni Rotondo, alle 18.30 sarò a Pietrelcina, proprio per vivere anche a Pietrelcina, nella chiesa conventuale della Sacra Famiglia, proprio per vivere anche l'Eucarestia. Che ricordiamo il luogo dove è sepolto Fra Modestino, magari per coloro che non lo sapessero. Andrò e andremo a recitare la preghiera per la canonizzazione di Fra Modestino da Pietrelcina. Insomma, giornata piena, grazie Fra Nazario. Condendo di viverla e quindi anche rinizio il mio ministero in provincia, proprio ripartendo da Modestino, con gioia, con gioia. Grazie, grazie di cuore Fra Nazario. Ne approfitto per ricordare che adesso andiamo in pubblicità, ma subito dopo Giulia ha preparato per noi un servizio molto interessante, legato anche alla tematica di oggi, cioè la festa della Madonna addolorata, perché qui a San Giovanni Rotondo c'è una chicca che adesso Giulia ci porterà a scoprire. Restate con noi e poi ancora in diretta. A tra poco.